Troppa sofferenza? Sì, abbiamo fatto una vittoria importante, a mio avviso non l'abbiamo sofferto tanto perché sono state poche le loro occasioni chiare da gol, però quello che conta sono i tre punti e soprattutto non aver subito Reti è una cosa importante. I tre punti te lo passano anche dalle tue mani? Sì, a merito di tutti, questa vittoria abbiamo lottato in campo, abbiamo dimostrato il nostro valore, che possiamo battere tutti tranquillamente con la qualità dei nostri giocatori e possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Adesso la zona playoff è vista su quanto tre punti? Sì, noi dobbiamo continuare con questi risultati inutili e dobbiamo fare un filotto. Cosa cambia nel Catania da un mese a questa parte? Cambia che stiamo migliorando, si sta vedendo il lavoro del mister e stiamo diventando una squadra che può battere chiunque. Il mister in settimana ha ribadito ancora una volta che il titolare è frisone a prescindere dal dipendimento di Terracciaro. Io penso ad allenarmi bene, a confermarmi partita dopo partita, poi le scelte le fa il mister e sono contento del momento che stiamo vivendo, per sia personale che quello di squadra e andiamo avanti così. Quanto è importante il rientro di Rolino in difesa e di Almirona da giocare a questa parte per la squadra del Catania? Sono importantissimi, sono importanti tutti i giocatori del Catania, anche chi non gioca mai si entra e si fa trovare sempre pronto, quindi dimostrano tutti grande maturità e grande attaccamento alla maglia.